La logica BODMAS. Perché ci interessa? Perché è la logica con cui Excel compie le operazioni matematiche. Da notare non tutti i programmi usano questa logica. BODMAS è l'acronimo di brackets, orders, division, multiplication, addition e subtraction, ovvero parentesi, elevazione a potenza, divisione, moltiplicazione, addizione e sottrazione. Avrai notato che ho cambiato dei colori in un arancione molto lieve e che li ho fatti questi ultimi 4 in due gruppi. Questo perché prima esegue ciò che c'è scritto tra parentesi, poi esegue l'elevazione a potenza, successivamente compie divisioni e moltiplicazioni e sono alla pari, diciamo, nello stesso livello e dopo moltiplicazione e divisioni fa addizioni e sottrazioni. Non è molto difficile da capire, però vediamo un piccolo esempio pratico. Ho due valori 7 e 13, voglio calcolare la loro media. Tralasciando il fatto che esiste la funzione media, quindi basterebbe scrivere media e poi di selezione entrambi, io ora la calcolerò matematicamente, quindi farò proprio il calcolo. Sostanzialmente devo prendere il 7 e sommarlo al 13 e tutto questo deve essere diviso per 2. Adesso se metto il diviso qui e scrivo 2, mi dà questo. Però cosa ha fatto? Ha seguito la logica Bozmas, quindi prima ha eseguito questa divisione e poi ha sommato questo 7 e questa operazione è sbagliata perché deve dividere questa somma per 2. Come fare? Beh, metto le parentesi tonde. Da notare su Excel non ci sono le graffe, o meglio rappresentano un'altra cosa e non ci sono neanche le parentesi quadre, ci sono solo le parentesi tonde. Fatto questo, premo invio, ecco fatto. La media, la vera media è 10. Proviamo a usare la funzione preposta, ecco qua. Quindi ricordati Excel usa la logica Bozmas, questa qua. Per la logica Bozmas è tutto e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!